Traversare una strada per scappare di casa, lo fa solo un ragazzo. Ma quest'uomo che gira tutto il giorno le strade, non è più un ragazzo e non scappa di casa. Ci sono d'estate e pomeriggi che fino alle piazze sono vuote, distese sotto il sole che sta per calare. E quest'uomo, che giunge per un viale di inutili piante, si ferma. Val la pena essere solo, per essere sempre più solo. Solamente girarle le piazze e le strade sono vuote. Bisogna fermare una donna e parlarle e deciderla a vivere insieme, altrimenti uno parla da solo. È per questo che a volte c'è lo sbronzo notturno che attacca discorsi e racconta i progetti di tutta la vita. Non è certo attendendo nella piazza deserta che si incontra qualcuno, ma chi gira le strade si sofferma ogni tanto. Se fossero in due, anche andando per strada, la casa sarebbe dove c'è quella donna e varrebbe la pena. Nella notte la piazza ritorna deserta e quest'uomo che passa non vede le case tra le inutili luci, non leva più gli occhi. Sente solo il selciato che han fatto altri uomini dalle mani indurite come sono le sue. Non è giusto restare sulla piazza deserta. Ci sarà certamente quella donna per strada che pregata vorrebbe dar mano alla casa. Grazie. Grazie. Grazie.